E niente, io mi ero illuso di potermela cavare con un solo video sui direttori d'orchestra, invece mi avete scritto talmente tanti messaggi e tanti commenti sotto il video precedente che mi costringete a fare un altro video. Oggi la domanda che ci facciamo è, ma si può fare meno del direttore d'orchestra? In tali casi probabilmente sì, in musica con organici piccoli, pensiamo a una delle prime sinfonie di Mozart, una delle prime sinfonie di Haydn, oppure tutti quei pezzi che si fanno con l'orchestra ma che hanno una derivazione prettamente cameristica, pensate per esempio ai divertimenti per archi di Mozart che sono stati pensati originalmente per quartetto d'archi ma poi si fanno con l'orchestra d'archi, in questo genere di composizioni probabilmente si può fare a meno il direttore d'orchestra. Sfido però chiunque a fare a meno del direttore d'orchestra in una sinfonia di Mahler o in un'opera di Puccini, che oltre ad avere gli organici sterminati sono state proprio pensate, concepite per avere la figura di un direttore d'orchestra che coordini il tutto. Pensate banalmente in Bohème a tutti gli interventi che ci sono anche da dietro la scena, insomma, difficilissimo coordinarli senza una persona preposta a farlo. In più la questione degli attacchi o degli ingressi di cui abbiamo parlato l'altra volta in tanti tipi di musica, particolarmente magari complessa dal punto di vista ritmico, non avere un direttore è un problema insormontabile. Pensate a qualcosa di Stravinsky, pensate a qualcosa di molto ritmico, pensate a qualcosa di Bartok. Però al netto di questo a volte ci sono anche dei piccoli incidenti che possono succedere e come abbiamo detto tante volte, dal vivo può succedere qualunque cosa. L'altra volta vi ho spiegato l'importanza del direttore per dare gli attacchi o ingressi che dir si vogliono, cioè quando il direttore proprio fa vedere con precisione a un singolo strumentista all'inizio di una frase importante o all'inizio di un solo importante dove deve entrare. Vediamo cosa succede in questo video dove Michael Tilsel Thomas dirige Mahler e dà un attacco, ma il musicista non parte. Ecco, stai dicendo, stai dicendo è qua, ma lui non entra. Oh, allora, guarda che è qua, ma lui non entra. Qua! Ah, ecco, ora è entrata. Quindi come avete visto, anche nella serie A, anche in serie A succedono queste cose perché l'errore fondamentalmente è umano. A volte l'errore è del musicista e a volte l'errore è del direttore, perché il direttore, anche se a qualcuno piacerebbe, ma non è un dio infallibile, è un essere umano e come tutti può sbagliare. Quindi tornando a quello che abbiamo detto prima, sì, in linea teorica alcune musiche si potrebbero eseguire anche senza direttore. Però in realtà non è la soluzione del problema, è semplicemente lo spostamento del problema. Cioè a dire, ok, non c'è un direttore che si prende la responsabilità delle scelte interpretative da fare in quel determinato pezzo. E quindi chi si prende questa responsabilità? Beh, la risposta più scontata potrebbe essere la spalla, ovvero sia il primo violino. Ma in questa maniera, anche ammettendo che il primo violino facesse le scelte interpretative, tecnico-musicali di tutta l'orchestra, e quindi dicessi anche i fiati, anche le percussioni, le indicazioni per come suonare, in realtà non abbiamo risolto il problema di non avere la figura del direttore dell'orchestra. Abbiamo semplicemente traslato la sua funzione, i suoi compiti da una persona a un'altra. Il primo violino poi non potrebbe assolutamente dare, come dire, un tipo di suono dettato dalla gestualità, ovvero sia la gestualità di ogni tipico direttore, al netto delle specifiche tecniche, cioè quelle che servono per fare andare insieme l'orchestra, per fare in modo che la verticalità sia sempre rispettata, ha molto effetto sul suono dell'orchestra. Cioè un gesto morbido, legato, in maniera naturale ispirerà l'orchestra a suonare in maniera morbida e legata. Cioè, quindi con un gesto così mettiamo, il direttore non ha bisogno di dire, mi raccomando suonate legato, perché si vede già da come sto muovendo le braccia che voglio legato. Se ci pensate, è una reazione molto naturale, cioè se io faccio questo gesto, il mio interlocutore per istinto sarà portato a irrigidirsi e a mettersi, a mettere su la difensiva. Se io faccio questo gesto o questo gesto, che non per niente è utilizzato in tante religioni, cosa vuol dire? È un'accoglienza, no? È un gesto di benevolenza, di dolcezza e quindi il mio interlocutore sarà portato a essere abbastanza rilassato fondamentalmente. E questa è la funzione della gestualità del direttore orchestra, che quindi tramite la gestualità, anche senza troppi discorsi in prova, riesce a trasmettere all'orchestra il tipo di suono che vuole. Detto questo, il direttore orchestra è esattamente come l'allenatore nel calcio, o per certi versi come il regista nei film, cioè quella figura che si prende più meriti di quelli che ha e che si prende più colpe di quelli che ha. Cioè, non per niente, quando una squadra va male, l'allenatore viene licenziato. Eh, l'allenatore, sì, certo, li ha preparati, ma non è che è andato lui in campo, non è che ha sbagliato lui il gol a porta vuota dell'ultima partita, è però chi ci rimette la testa non è l'attaccante, ma l'allenatore. Ecco per quando sento la famosa domanda, ma i musicisti hanno già gli spartiti, sanno già quello che devono fare, cosa serve il direttore orchestra? Serve a fare in modo che tutti facciano la stessa cosa, e possibilmente la stessa cosa che ha in mente il direttore. E perché se fosse così, Leonardo Di Caprio, che bisogno avrebbe di un regista? Sa recitare o no? No, sì. Ha un copione o no? Sì. C'è scritto tutto quello che deve fare sul copione? Sì. Quindi a cosa gli serve un regista? Serve esattamente a questo, a coordinarlo e a fare in modo che quello che lui farà e dirà sia perfettamente omogeneo nella totalità del progetto. E quindi mutatis mutandis, fare in modo che la linea dei violini sia perfettamente omogenea e non in contrasto con quello che fa ad esempio gli ottoni o i legni. Altra domanda storica. Ma il direttore sa suonare tutti gli strumenti? No. Il direttore orchestra assolutamente non sa suonare tutti gli strumenti dell'orchestra. Il direttore orchestra però deve conoscere tutti gli strumenti dell'orchestra. Questo è un altro discorso. Deve sapere le possibilità. Deve sapere esattamente come deve sapere questa cosa ovviamente il compositore. non solo quali sono le possibilità musicali, ad esempio l'estensione di uno strumento che va da quella nota a quell'ata. Deve sapere quali sono le necessità espressive di quello strumento. Oppure deve sapere se fare certe richieste di dinamica è una cosa possibile. No. Cioè se abbiamo, sparo, un flauto che suona il do centrale e su abbiamo i tromboni insieme che suonano forte e non potremmo che la flautista suona più forte perché più di tanto da quel tubo il povero flautista non potrà tirare fuori. E quindi le richieste che vengono fatte devono essere ovviamente delle richieste sensate. Anche perché se un direttore fa una richiesta non sensata l'orchestra lo bolla immediatamente come incapace lì all'inizio della fine. Altra domanda storica che mi viene fatta mille volte. Ma il direttore a Sanremo. Il direttore a Sanremo non dirige l'orchestra anche perché i pezzi sono brevi hanno tutti lo stesso tempo i musicisti hanno clic in cuffia quindi veramente lì il direttore non serve assolutamente a nulla è solo coreografia. Non dimentichiamoci però che la persona che lì impiede a dirigere l'orchestra è in realtà quella che ha fatto l'arrangiamento quindi come dire non è uno che passava lì per caso che hanno tirato dentro. Ma dal punto di vista strettamente dell'andare insieme sì, in questo caso si potrebbe fare tranquillamente a meno del direttore d'orchestra. E poi altra domanda che mi fate ma chi dirige l'orchestra a Sanremo va poi a dirigere la seconda di Mahler? Assolutamente no ragazzi non c'è nessuna possibilità che la cosa avvenga anche perché dal punto di vista di lettoriale sono due campi di difficoltà mostruosamente diversi e quindi il fatto che uno usi la macchina per andare a fare la spesa non vuol dire che poi lo si possa mettere su una Ferrari a Monza a correre a 300 all'ora perché si pianterebbe alla prima curva. E chiudiamo con una frase bellissima che io non conoscevo e che mi ha scritto uno di voi sotto i commenti del video precedente che recita, ve la leggo Il direttore è come un preservativo con lui l'orchestra è più al sicuro ma senza è tutto più bello Ci vediamo al prossimo video